In generale, l'errore A49 è una situazione in cui il printer non può processare un file che è stato sentito a essere printato. Il file potrebbe essere corrompito, c'è il file print queue e scelta tutti i job. Poi avvicinare il printer off e tornare. Stendete in mente che, se alcuni usatori utilizzano questo printer, può essere nessuno di loro che ha sentito il file corrupto. La seconda cosa a provare è eliminare e installare il driver printer. L'errore A49 potrebbe essere causato ad un vecchio firmware. Se non funziona, se il printer è collegato a una network ethernet, eliminare il cable ethernet e il cable usb da parte del printer. Avvicinare e tornare ancora il printer. Se l'errore desaparece e puoi printare un print interno come una pagina di configurazione, il problema potrebbe essere relato alla versione IPv6. Per disabilire IPv6, clicco su Windows key, Settos, open network and internet, open network and sharing center, Click Change Adapter Settings, right click your connection and go to Properties, uncheck IPv6, check if the error disappeared, in case the error remains the most likely causes are the network card, the print spooler or the mainboard. It could be a faulty memory beam, especially if the error appears in case of long print jobs. In some cases the printer will need to be reinstalled using a new IP address.